Il mondo è in guerra. Che si questo bombarda. Qui, ma non è un ospedale, una scuola, ci sono i malati, i bambini, non importa. E va la bomba. Poi, non so, io mi sono vergognato del nome di una bomba. La madre di tutte le bombe. Ma guarda, la mamma dà vita e questa dà morte. E diciamo mamma a quella parecchio. Che cosa sta succedendo? Grazie. 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 Grazie.